Un'incursione preparata da tempo dall'intelligence dello Shimbeth, che l'ha compiuta con le forze speciali dell'esercito, ha portato alla morte di due dei sospettati per il rapimento e l'uccisione di tre giovani israeliani avvenuta a giugno. Marwan Kavazme e Amer Abu Aisha, questo il nome dei due ragazzi uccisi, erano ricercati da mesi. Le loro case erano state demolite ad agosto, si nascondevano a Hebron. Le autorità israeliane affermano che l'operazione era volta ad arrestare i due che sono stati uccisi in un conflitto a fuoco. Fonti palestinesi replicano invece che è stato un duplice omicidio e che l'esercito aveva sparato anche un razzo verso l'edificio che ospitava i sospettati. L'episodio per il quale erano ricercati aveva fatto da scintilla lo scoppio della guerra, che per sette settimane ha devastato la striscia di Gaza, causando oltre 2200 morti.